Revochiamo la cittadinanza onoraria data a Benito Mussolini e onoriamo Giacomo Matteotti. Le due proposte sono unite da un solido fil rouge intrecciate da Dino Zacchilli, ex assessore del comune di Fano, quale esponente del Partito Socialista. Quest'anno ricorre il centenario della morte di Giacomo Matteotti, barbaramente ucciso il 10 giugno 1924 da una squadra fascista nel corso di un agguato di cui lo stesso Mussolini si era assunto la responsabilità morale e politica. La vittima, quale strenuo difensore della libertà e della democrazia contro l'assolutismo, era diventata un ostacolo troppo scomodo per il partito fascista proiettato sulla via del potere. La città di Fano ha onorato Giacomo Matteotti, intestandogli la principale via cittadina, il corso. Ma ora sono in programma altre iniziative dedicate soprattutto alle giovani generazioni che fanno luce sulla personalità, sul pensiero e sull'azione di questo martire per la libertà. Una serie di iniziative e attività promosse dall'amministrazione comunale con il contributo e delle proposte molto interessanti di Dino Zacchilli. Il primo appuntamento sarà il lunedì 12 febbraio alle ore 17.30 alla Mediateca Montanari per la presentazione di Solo, il libro recentemente scritto e pubblicato da Riccardo Nencini che ricostruisce per l'appunto la parabola politica che porterà l'Italia alla dittatura e avrà proprio un passaggio di svolta nell'assassinio da parte dei fascisti di Giacomo Matteotti, parlamentare del Partito Socialista Unitario. E poi ci saranno altri appuntamenti di divulgazione e approfondimento storico, ci sarà uno scaffale della Mediateca Montanari dedicato alla figura di Matteotti con l'asquisto di decine di saggi dedicati a quel periodo storico e specificatamente alla figura di Matteotti, ci sarà la pulizia e la riparazione di una serie di lapidi che ricordano la figura del parlamentare socialista già presenti storicamente nella nostra città e poi l'amministrazione comunale in occasione del 25 aprile ha intenzione di porre una lapide commemorativa della figura di Giacomo Matteotti proprio in municipio, proprio per in qualche modo chiudere anche idealmente un cerchio tra quello che è stato un assassino politico che ha aperto il ventennio della dittatura fascista e la data che invece segna la liberazione dell'Italia dal fascismo.